Ciao a tutti amici dell'Acquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche spirituali per il primo semestre del 2024. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Acquario. Si parla di riequilibrare qualche questione, in questo caso potrebbe essere l'equilibrio che c'è tra mente e cuore, quindi quello che da un lato volete fare è quello che a livello di anima, intendiamoci, e invece dall'altra parte potrebbe esserci quello che dovete fare. Si parla anche di giustizia divina, potrebbero esserci dei tagli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi, come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete qui e lo vedete anche nelle info del canale. Successivamente a questa lettura ne usciranno altre due, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia, quindi restate sintonizzati. Allora, abbiamo un 9 di spade al contrario, 4 di pentacoli, re di bastoni, 3 di bastoni, 3 di pentacoli, 3 di pentacoli, queste sono tante, solo una per piacere, grazie, grazie. E la giustizia, nuovamente. Quindi è chiaro, no? Il messaggio, l'energia è proprio quella. Può anche essere giustizia divina, quindi qualche cosa che non regolarizzate voi, ma che verrà, diciamo, regolarizzato dall'alto. Allora, partiamo da questo 9 di spade. Qui c'è un'attitudine mentale da lasciare indietro, ragazzi. 9 di spade fa sempre riferimento a preoccupazioni, pensieri. È un po' come se vi steste aggrovigliando nella mente, nei pensieri. C'è un qualche tipo di situazione, oggetto, persona, alla quale vi state attaccando, o meglio, dalla quale vi dovrete staccare. Può anche essere un atteggiamento, appunto, una forma pensiero. Diciamo che con il 9 di spade c'è sempre un'attitudine molto, molto, molto negativa. c'è, come dire, la preoccupazione che qualche problema che avete già affrontato si possa ripresentare. Tenete sempre presente che i problemi, le cose che sono successe nel passato, sono successe perché magari era la prima volta che affrontavamo un certo tipo di percorso, ipotesi, se vi faccio proprio un esempio. Se avete aperto la partita IVA e non è andata bene, è come se nell'andare avanti voi aveste paura che si possano ripresentare gli stessi problemi. Però nel passato avevate un certo tipo di consapevolezza, nel presente ne avete un'altra, anche perché avete già quell'esperienza alle spalle. Quindi è proprio un po' quello da lavorare, no? Il distacco da certi pensieri, da certe preoccupazioni, da certe idee. Poi di qua invece abbiamo il re di bastoni e il tre di bastoni. Qui il punto è mirare verso il futuro. Per qualcuno si tratta proprio di spostare la propria energia da re di bastoni a re di pentacoli. Quindi diciamo far diventare un po' più concreta una qualche situazione. Però è interessante perché qui avete anche un 3 di pentacoli al contrario. E qui invece avete un 3 di bastoni. Andiamo a vedere carta per carta. 9 di spalle. mondo e regina di bastoni. Allora potrebbe essere qualche questione familiare o qualche preoccupazione legata al vostro modo di apparire. al vostro modo di, sì, di apparire, non nel senso di essere appariscenti, però come la gente vi percepisce quando vi vede. Sì, ci può anche essere una componente di appariscenza, eh. Però è come un cambiare la mentalità per quello che riguarda che cosa pensano gli altri, cosa dicono gli altri, come mi vedono gli altri. Devo dire che per qualcuno è la necessità di staccarsi da certi pensieri o da certe situazioni familiari. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo il 7 di coppe. E un 4 di coppe. Allora, qui c'è qualcuno che è attaccato, come vi dicevo prima, a un certo tipo di situazione, ruolo, mi dicono. Tanto da non farvi vedere chiaramente quali potrebbero essere le possibilità alternative. Ed è proprio quello su cui sarete portati a lavorare nel prossimo semestre. Viaggiate con la fantasia, apritevi una marea di possibilità. Poi, è vero, sono da valutare bene, perché comunque molte sono illusioni e poche sono possibilità che si possono concretizzare. Però, vi dirò, c'è anche un certo attaccamento alla materialità, a quello che avete. Qui avete il mondo e la regina di bastoni. Il mondo fa riferimento un po' a quello che sono i viaggi, le culture straniere, se vogliamo. E la regina di bastoni fa riferimento alla società, alle feste, ai sollazzi anche. Mentre qui è un po' come staccarsi, magari proprio da questa materialità. Ed è per quello che sarete un attimino... Normalmente il nome di spade parla di problemi a cui si pensa, però potrebbe anche essere il fatto che qualcuno qui con la giustizia debba cambiare vita e magari si debba lasciare indietro certi divertimenti. Per qualcun altro fa riferimento al fatto che, sì, si debba lasciare indietro un po' di leggerezza e pensare un po' di più alla questione, alla materialità. Perché vi dico, è come passare da un re di bastoni a un re di pentacoli. Il re di pentacoli è un re che domina la materia, ok? C'è qualcosa con la materialità. E vi dirò, avendo due volte la giustizia, ci potrebbero anche essere dei temi burocratici per qualcuno. In ballo andiamo a vedere il re di bastoni. Mmm, diavolo. Re e regina di bastoni. Qui il punto è prendere in mano le redini della situazione. Mi viene da dire staccarsi dalla tossicità, perché c'è questo diavolo, ragazzi, che pesa, pesa parecchio. Mmm, siccome la regina di bastoni fa riferimento ai sollazzi, ai divertimenti, ci potrebbe essere un po' di tossicità in quel senso lì, potrebbe essere semplicemente una persona che per voi è tossica e che è ora di lasciare magari indietro o di imparare a gestire perché il ma, se non potete lasciarle indietro perché magari è un familiare, è come se ci fosse una necessità di gestire la situazione, di prendere questa energia pesante e di trasformarla. Voglio un'altra carta per il diavolo. C'è qualcosa inerente, il riconoscimento, il successo, qualche tipo di contratto, la fama, il potere personale, i soldi, quante cose si hanno, quanto bene ci si veste, quanto è grossa la macchina. C'è qualcosa qui che vi frega in questo senso. È un qualche tipo di materialità legata all'ego, legata al potere, legata al dominio, magari è proprio un ruolo, quello a cui state puntando, che vi dico, crea un po' di smottamento, c'è qualcosa da lavorare in quel senso lì. Normalmente quando c'è il diavolo sono questioni legate all'ego. Quindi può anche essere che voi pensiate che arrivando a quel ruolo, arrivando a quel contratto, arrivando a quel determinato obiettivo, sarete più felici, ipotesi, o sarete più potenti, o sarete migliori. Però è come se fosse una sorta di trappola. Andiamo a vedere il tre di bastoni. E che qui è come se non vedeste le possibilità che avete. Cioè è come se state lavorando solo con quello che avete, ma in realtà se guardaste oltre, ci sarebbero altre possibilità per mettere in atto questa concretezza di cui avete bisogno, questo potere a cui state puntando, mirando. Il potere va bene, cioè nel senso non è negativo, purché sia usato per il più alto bene di tutti, della comunità. Perché quando il potere diventa solo per una persona, è una questione di ego. Se serve a voi per sentirvi migliori, per sentirvi uguali agli altri, è solo una questione del vostro ego. Se invece magari avete i sogni grandiosi per aiutare le persone, magari vi faccio un esempio, volete aprire una gastronomia di cucina macrobiotica, per esempio. Sì, lo fate per voi, perché dovete vivere, dovete lavorare, però è un tipo di attività che serve per far star meglio gli altri, che coccola l'alimentazione e il nutrimento degli altri. Ok, andiamo a vedere questa storia di pentacolo. Ah no, scusate, devo ancora guardare queste. Tradi bastoni. Tradi bastoni è spiegato da un'altra di bastoni, giustamente, dalla sacerdotessa e da una stella. vi dicono di puntare l'obiettivo, vi dicono di viaggiare con la fantasia anche, puntate in alto, cercate di andare oltre quelle che sono le vostre possibilità. Con la fantasia si può giocare, perché cosa succede? Una volta che la mente inizia a lavorare, inizia a spaziare, poi arriva quella canalizzazione e qui avete la stella, quell'idea, quella presa di consapevolezza, quell'illuminazione che arriva e che vi fa vedere oltre, che vi fa andare oltre. Il tradi bastoni è proprio il passare dall'altra sponda, andare verso nuovi orizzonti, verso nuove possibilità di scambi, di commercio proprio. Si parla di materialità e qui c'è qualche cosa a livello materiale, un qualche tipo di scatto, sono come collegate, non le due cose, la spiritualità e la materialità, in questo caso. È come se legata alla questione materiale ci fosse qualche cosa inerente all'ego che vi farà fare una sorta di scatto, perché comunque avete la sacerdotessa, è come se vi dicessero guardate nel lungo periodo. Andiamo a vedere questo re di pentacoli, amanti e cavaliere di pentacoli per concretizzare la vostra, la vostra, come vi posso dire, non è un'integrità, chiamiamolo potere personale, che è più facile. Avete bisogno di lavorare sull'amor proprio, è proprio quello su cui sarete portati a puntare l'attenzione nel prossimo semestre, nel primo semestre del 2024. Il cavaliere dei pentacoli è una di quelle carte che parla di un ritmo molto lento, una casa si fa, un mattone alla volta e qui è un po' come se vi dicessero di costruire il vostro regno, la vostra fortuna, giorno dopo giorno. Vi dico, pensate a lungo periodo, non vedete solo il qui e ora, pensate se iniziate un qualche tipo di attività, se andate dietro a una di queste possibilità che vi si apriranno nel lungo periodo. Come potrebbe essere, dove potreste essere, che tipo di potere personale potreste aver già sviluppato. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli. 7 di pentacoli, fante di pentacoli, 10 di bastoni e asso di coppe. Allora, di nuovo, rinnovo il lavoro sull'amor proprio. Qui avete bisogno di farvi pagare il giusto. Capire qual è, qual è. Quando si tratta di capire quanto poter chiedere, chiedetevi che bagaglio culturale e esperienziale ho da poter offrire, cosa metto io nella persona, nell'appuntamento, nel prodotto, in quello che io ho da offrire. Il mercato, quindi la media del mercato qual è, diciamo, e soprattutto una domanda che io mi faccio è io pagherei questa cifra per avere un'ora con me, ipotesi, o pagherei questa cifra per avere il prodotto che io sto producendo? Se la risposta è sì, stabilite un prezzo e poi fatevi tutte queste domande, diciamo, perché qui siete ancora tanto legati, sento, agli studi, a quello che dove, è come se non aveste sicurezza in voi perché dovete ancora farvi le ossa in magari una o più di queste nuove occasioni, opportunità che vi apre, come se fosse qualche cosa di nuovo che ancora bisogna di essere, però in realtà quello che vi dicono qui è che voi avete tanto, avete tanto nelle vostre mani e soprattutto sbarazzatevi di quelle che sono, quello che voi credete essere le aspettative degli altri o anche se voi siete certi e non sono vostre credenze di quello che si aspettano gli altri, sono aspettative comunque degli altri, voi dovete, diciamo, che siete responsabili di soddisfare solo le vostre di aspettative, però qui di nuovo c'è come una sorta di insicurezza nell'affrontare tutto questo, ma qua vi dicono usate il cuore, fatelo semplicemente come un atto di amore, tutto quello ok, che viene dall'amore, dal cuore ha possibilità di crescere, ha possibilità di espandersi, va poi regolato con quello che è la mente, va indrizzato, però comunque ha questa possibilità di andare avanti, andiamo a vedere la giustizia che arriva, sette di spade e carro, ragazzi, qui ci sarà un taglio, un cambio di direzione, qualche verità che verrà a galla, anzi, datemi una carta per questo sette di spade, va, allora, per qualcuno si tratta di muoversi da un certo tipo di illusione, vi dico, il 6 bastoni e la carta del papa a livello di riconoscimento di successo nei confronti della società hanno la stessa energia e qui è proprio quello che andrete a lavorare, ad un certo punto vi staccherete, cambierete direzione, vi renderete conto che l'essere riconosciuti dall'esterno non ve ne può fregare di meno, insomma, che gli altri pensino quello che vogliono, farete questo lavoro di distacco, che gli altri pensino quello che vogliono, non è un problema vostro. ho pubblicato un video tra l'altro che parla delle proiezioni, cioè quando uno fa una critica, fa un commento, è sempre filtrato da quello che vede lui o lei nella vita, non vuol dire che sia direttamente collegato con voi, vi renderete conto delle bugie che vi siete sempre raccontati, la giustizia taglia, mostra le cose che fino adesso sono state nascoste, wow, sarà un periodo di rivoluzione positiva perché comunque abbiamo il carro e all'inizio abbiamo anche il mondo quindi non nascondo che per qualcuno si può trattare di un cambio netto, allora potrebbe essere di un luogo di lavoro, di un luogo dove si abita, di un centro spirituale, è come se si cambiasse scuola per qualcuno, stavo guardando se riesco a dirvi ancora qualche cosa altro ma per adesso non mi viene nient'altro, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cosa riesco a dirvi di più, wow, mindfulness, focalizzate l'obiettivo, è quello che sento qui, qui avete la carta della stella che è proprio il puntare l'obiettivo, fa riferimento alla stella polare, quindi è un po' come se vi dicesse puntate il nord, andate avanti, andate per quella strada, non vi fate distrarre fondamentalmente, e parla anche comunque questa carta di una presenza pacifica, ok, per la serie non fate le lotte interne, non bisticciate con la vostra testa, cercate di parlarvi con amore, l'ego è sempre quello, il critico interiore che abbiamo, è quello che ci sgrida, è quello che ci dice non fai abbastanza, potevi far così, potevi far colà, invece no, cercate di parlarvi con amore, qui ci vorrebbe la carta dell'imperatrice per farvi capire, però con l'amore di una madre, bene amici dell'acquario, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione per il futuro, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!